Punti in palio importanti al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Si affrontano Angolana e Alba Adriatica, chi per fare gli ultimi passi per la salvezza diretta e chi invece per restare aggrappato al treno play-off. L'intento delle società è comunque uno, far crescere i tanti giovani assieme ad elementi di esperienza. Fischia Paolo Di Carlo della sezione di Pescara. Primo tempo molto equilibrato e godibile per numero di occasioni da rete. La prima capita sul piede di Miani. Abate in qualche modo riesce a sventare la minaccia e a ritrovarsi il pallone vicino. La risposta angolana è affidata alla testa di Bizzarri. Petrini si accartoccia e blocca. È un momento favorevole per la squadra di Mister De Eugenio, che col 3-5-2 in ampiezza mette in difficoltà gli avversari. Tutta di prima la combinazione che porta Nepa al tiro, Petrini e Super, sia sul numero 11 che sulla ribattuta di Maloku. Alla mezz'ora Andiaie va via sul filo del fuorigioco e spiazza il portiere. Si alza la bandierina proprio nel momento più bello per l'attaccante. Finale di tempo che torna in mano ai ragazzi terribili di Zotti. Miani si inserisce bene. Abate gli sbarra la strada. Un minuto di recupero al termine del quale l'Alba passa in vantaggio. Miani porta spasso agli avversari. Emili alza il pallone che dopo una carambola varca la linea di porta. 1-0. L'ultimo tocco è probabilmente di Di Pietrantonio. Esultano gli albenzi. Va direttamente negli spogliatoi l'angolana. Nella ripresa l'Alba prova a chiudere il discorso ma Njambe cicca la sfera da ottima posizione. La partita è molto bella. Andiaie manca l'appuntamento col pallone. Njambe dall'altra parte. 1-1 con Abate che lo ipnotizza e tiene a galla i suoi. Ma Loku è una freccia dritta nel cuore della difesa ospite. Destro che spacca la traversa e grazie all'Alba Adriatica ancora il 3. 5 minuti dopo con lo slalom speciale. Conclusione che fa la barba al palo. La pressione dell'angolana viene premiata al 42esimo. Azione ragionata. Tutti dentro l'area di rigore e sfera che arriva. Luca D'Alonso sul filo del fuorigioco e Glaciale il 7 che ristabilisce punteggio e gerarchie della partita. 5 minuti di recupero. Ancora Renato Curiangolana. Calcio d'angolo. L'Abi è il più lesto di tutti. Il mirino non è attivo. A pochi secondi dal triplice fischio Miani viene espulso da Di Carlo per doppia munizione facendo infuriare la panchina ospite. Termina 1-1. L'angolana trova un punto importante per la salvezza diretta con un secondo tempo da protagonista. L'Alba si stacca momentaneamente dal treno playoff a tre giornate dalla fine del campionato. Io penso che ci sta anche un pochettino stretto. Siamo a vedere la traversa, i due o tre gol mangiati da cinque metri. Uno da Maloku e un altro il primo tempo. Bene. A me sinceramente è piaciuta anche la manovra. Anche il primo tempo. Anche se non abbiamo creato tantissimo. Però siamo riusciti ad andare sempre sugli esterni. Quindi bene. Chiaramente è contro una squadra forte che ha un potenziale offensivo molto importante. Quindi sono contissimo. Sì, devo dire che il pareggio è risultato giusto. Per oggi la mia attenzione nei confronti della terna arbitrale. Soprattutto per l'arbitro. Perché non l'ho mai fatto. Però permettetemi che a luce di un arbitraggio come quello di Spoltore, uno di domenica anche in casa, io porto in giro una squadra di giovani ai quali insegno a non rispondere all'arbitro. Anche in settimana mi ero riproposto di concentrarci sulla partita, evitando di parlare della terna arbitrale. Ma lungi da me ho la possibilità di non farlo, perché sarei incoerente nei confronti dei miei ragazzi. Il numero sette loro, non me ne voglio il ragazzo, ha commesso tre falli di gamba tesa, che almeno da mio regolamento è da cartellino giallo, e non è stato combinato nessun cartellino giallo. Di conseguenza ha finito la partita in campo. La stessa cosa vale per il loro numero tre. E' chiaro che queste situazioni hanno influito negativamente sulla prestazione della mia squadra, perché stavo in vantaggio di 1-0, mi aspettavo quantomeno un cartellino, l'altro che ho preso alla fine significava il rosso e questo non è avvenuto. Poi alla fine, dulcis in fundo, la doppia munizione su Miani, che onestamente mi lascia molto perplesso. Ripeto, io ai miei insegno a stare zitti.